bravo incredibile abbiamo trovato un compagno di squadra che sa giocare ma chi cazzo sta sparando oh mio dio io mi metto qui e non mi muovo proprio completamente più anche perché loro si stanno ammazzando da soli facciamolo ammazzare si stai qua anche tu aspettiamo lo scontro diretto poi se ne parla ecco adesso possiamo andare ad attaccare porca troia puttana e vabbè ormai già si sa come entra a finire l'importante è arrivare nelle posizioni alte rambierei proprio brawler vediamo se possiamo mettere un altro brawler magari abbiamo delle missioni tipo si va di male in peggio di male in peggio non abbiamo nemmeno fatto in tempo giocare sentiamoci conto partita scandalosa meno male che è un personaggio che perde poca coppia a me nessuno mi viene aiutare qua porca troia porca di quella puttana cosa fa cosa fa sto coglione di merda cosa fa cosa fa mi devo incazzare per forza ogni partita ogni partita mi devo incazzare per forza ogni cazzo di partita ogni giorno mi devo incazzare non giocare con me perché di trincio guarda ti giuro e ti uccido io al posto dei nemici vaffanculo finalmente un power up non lo vedevo dagli anni di gesù un power up ne che è morto ne che è morto manco il power up ci siamo presi ma non ti vergogni non ti vergogni porca di quella troia vaffanculo ci volevo io per ucciderlo questo arrivano colpi da sotto da sopra non si capisce un cazzo o mio dio proprio qua dovevi essere tu è fortuna qua dentro non c'è nessuno così possiamo anche riposa riposarci un cazzo con questo qua manco si fa curare ma stai fermo sono morto seduta stante proprio guarda quest'altro guarda guarda io non posso fare una vita così vero con loro ma io non ho capito perché quando sparo il mio personaggio spara al mio compagno ma non ha senso dove vedi che c'è una cassa qui si è fatto uccidere ma io non ci voglio credere porca troia questi sono i miei questi sono i miei non me ne frega un cazzo poi dite che qualcuno non si deve incazzare qui non si deve incazzare ma come cazzo fai non incazzati mi distruggo le casse per loro distrugge non è possibile non è possibile una cosa del genere non è possibile porca troia come solito il mio personaggio spara gli altri personaggi ma vabbè manco fosse un amico porca troia che cazzo di salute deve rigenerare che tutta piena porca troia ancora davanti al cazzo ti metti pure te vaffanculo vai c'è un bel bocconcino qui tutto nostro vediamo se possiamo prenderlo ok ucciso non è che da queste parti ci dovrebbe essere anche il suo amico come cazzo ho fatto a prenderlo poi prendo quelli da vicino non li tocco manco con lo sguardo per esempio ecco come in questo caso è di nuovo lì era ma che cazzo è o c'è una mira che non lo so nemmeno io oppure bu ha morto il mio compagno porca troia porca troia porca puttana razzo cazzo perdiamo ancora perdiamo ancora non ci vogliamo fermare dal perdere porca troia è il nostro destino la sconfitta della minchia qui facciamo come vento football ragazzi vediamo se riusciamo a vincere qualche partita ci dovremmo riuscire in teoria vabbè personaggio che ho scelto però eccoci qua cominciamo proprio nel peggiore dei modi guardate guardate a quelli un mio dio nessuno che va a difendere la porta che cosa potevo fare io da solo lì cosa potevo fare da solo porca ma sì andiamoci a fare autogol magari chissà vinciamo guarda quell'altro guarda quell'altro non vedo nemmeno cosa si è successo in realtà prendete la palla andate ma gliela passi gratuita proprio porca puttana porca troia lo sapevo io quando sta partita è persa già si sa abbiamo ancora 20 secondi dai se magari vi impegnate non fate minchiate poi lo cerca di farsi autogol ma in che senso è successo di tutto in questa partita e vabbè e vabbè con questi personaggi qua guarda quello quello con la mazza si è andato a prendere ma come cazzo si fa già io un personaggio di merda non so nemmeno perché non l'ho cambiato mi sono scordato perdonatemi non le prendiamo la palla no no tiro ma che cazzo fa la porta spalancata aveva gliela tira addosso ma come si fa andiamo a prendere gratuitamente 3 contro 1 ma manco c'è bisogno di pensarci almeno gli è spazzata lontano vediamo se riusciamo a recuperare non lo so ma troverò gli piccoli soprattutto in queste condizioni qua attenzione attenzione si provano una parata porca puttana ciao 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 ciao